Se ti sei fatto di quel monologo di Antonio Scurati cancellato dalla RAI a poche ore della messa in onda, tu l'avresti mandato in onda? Sì, io personalmente l'avrei mandato in onda e non gli avrei dato però neanche una lira per fare un'opinione, però l'avrei mandato in onda, no 1800 euro. Poi avrei detto questo signore va in onda, sappiate però sotto sottotitolo che per questo minuto e mezzo prende milione, 1800 euro. Questo avrei fatto in onda con un sottotitolo, sta parlando a fattura. Allora prima di tutto scusate però devo dire che chiunque va in RAI a parlare o in qualunque altra televisione viene retribuito perché viene considerato comunque lavoro. Sapete quanti giornalisti vi posso dire che vengono retribuiti e che non sono sicuramente in sinistra? Allora non mettiamoci a fare buoni e cattivi perché o si stabilisce che non si retribuisce a nessuno e sarebbe la soluzione migliore e quindi nessuno oppure se c'è un mercato purtroppo... Ma il mercato per fare un pistolotto? Io quando ho avuto Orsini, ve lo dico io, una storia personale, quando ho avuto Orsini in RAI, dopo che doveva avere un contratto, Giuliano Lussia lo sa perché lui era il TG2, dopo 24 ore mi chiamano e mi dicono Orsini non avrà il contratto, Orsini non sarà retribuito, Orsini diciamo non potrà parlare avendo un contratto RAI. A quel punto io l'ho subito chiamato e gli ho detto, e lui se lo sarebbe risparmiato e gli ho detto professore viene gratis e lui mi ha detto vengo gratis, ho chiamato la direzione generale e gli ho detto Orsini viene gratis, voglio vedere a questo punto come potete togliermelo. Però è lui che ha fatto la mosca bianca in una situazione in cui tutti sono retribuiti. Posso dire una cosa? Non è vero che tutti sono retribuiti, sono retribuiti chi svolge un lavoro, non chi esprime un'opinione come opinionista. Allora dica io sono un dipendente, un collaboratore, non un opinionista, vogliono avere l'aura dell'opinionista disinteressato però poi se non gli danno 1800 euro non parlano. Ignazio sono retribuiti tutti. Vabbè, vabbè, hai detto bene. Allora, però scusate, ma comunque tu dici che Scurati andava mandato. Ma io non vorrei fare ulteriore propaganda Scurati, già fa un sacco di soldi parlando di Mussolini, c'è bisogno che lo aiutiamo anche noi, no? Hai detto già? Già fa un sacco di soldi parlando di Mussolini. Perché non può parlare ai Mussolini? No, ho detto già fa un sacco di soldi parlando di Mussolini. Mi aspetto sempre una sua trilogia su Stalin, prima o poi, vediamo. Ma se quello la vuole scrivere su Mussolini. No, me l'aspetto. Ma capisci? Sono curioso. Come ragionate voi? Sono curioso. Alla par condicio sulle trilogie adesso ci vuole. No, ma perché non posso. Alla par condicio sulle trilogie. Ma scusa, un uomo illuminato come Scurati, una bella trilogia. Ho capito, ma siccome in Italia non c'è stato Stalin, c'è stato Mussolini col fascismo, quello la scrive su Mussolini col fascismo. Ma non è che si può fare la parte... Scusa, San Giuliano, tu che hai fatto libri su Hillary, Trump... Voi lo fai su Stalin. Non vuoi più. E lui l'ha fatto su tutti. L'ha fatto su Trump e su Hillary, giusto? Ma sì! E ora farai la biografia di Bianca per l'ingresso. Troppo c'è poco da... Troppo scarsa sarebbe. Quando lui l'ha fatto su Hillary, io gli ho detto, ma su Trump, mi ha detto, la sto preparando. Vabbè, allora, ma non è che Scurati deve fare quello che fa San Giuliano, dai. Scusa, è un modello. San Giuliano, ma non è un modello... San Giuliano è un modello per Scurati.